Benvenuti in Sanità in Chiaro. Oggi abbiamo con noi ospite Maria Carcò, nutrizionista, che ci darà alcuni consigli su come rimetterci in forma dopo le vacanze natalizie. Iniziamo innanzitutto a parlare un po' del ruolo della nutrizionista. Il biologo nutrizionista si occupa di valutare lo stato nutrizionale, la composizione corporea, lo stato generale della composizione corporea del soggetto, di andare a formulare un piano alimentare personalizzato, proprio sulle basi delle caratteristiche del soggetto, se è in salute e se arriva con una patologia accertata. Quindi è un lavoro che richiede un certo tempo, una certa anamnesi e quindi non esiste una dieta uguale alle altre. Perfetto, certo, ovviamente. Bisogna personalizzare ogni intervento. Naturalmente, sì, sulla base proprio anche delle misurazioni, della valutazione della composizione corporea, che è molto importante. Ormai non si può lavorare senza la possibilità di valutare massa magra, massa grassa, insomma queste caratteristiche del soggetto. Certo, ok. E allora, appunto, secondo le statistiche, durante le vacanze natalizie si ingrassa da mezzo chilo a tre chili circa. Qualche consiglio per smaltire questi chili velocemente, senza troppa fatica? Qualche consiglio per riprendere serenamente la vita quotidiana, senza troppi stress? Ecco, intanto lo stress, evitarlo assolutamente. È normale, insomma, lasciarsi andare un attimo durante le feste, ma basta riprendere uno stile di vita sano che comprende, oltre che è un'alimentazione un attimino appunto più tranquilla, non troppo pesante, basata fondamentalmente su frutta, verdura, legumi, cereali integrali, delle proteine animali non eccessivamente, insomma, non in eccessive quantità. E poi ha anche una sana attività fisica, chiaramente. Entrambe le cose non possono prescindere, devono essere entrambe presenti in uno stile di vita sano. Allora, diciamo appunto che per affrontare un regime alimentare corretto occorre innanzitutto tenere a bada le calorie, no? E poi iniziare dai vari pasti. Se volessimo con te affrontare un discorso un po' più particolareggiato, iniziando ad esempio dalla prima colazione, tu cosa consiglieresti? Allora, la colazione è il pasto più importante della giornata, sembra, vabbè, lo sentite sicuramente, cioè lo trovate scritto da tutte le parti, però c'è un motivo, perché fare colazione vuol dire, vuol dire, girare la chiave della macchina, proprio del motore, e quindi è importante che sia completa. Cosa vuol dire? Deve essere un mini pasto, ci devono essere tutti i nutrienti, i carboidrati, le proteine, i grassi. Quindi, diciamo, deve dare veramente tutto quello che serve per affrontare poi il resto, diciamo, almeno il resto della giornata. Quindi, il mito che a volte seguiamo un po' tutti, in determinati momenti, perché a volte non abbiamo il tempo, che è quello di saltare la colazione, deve essere... Diciamo, è sbagliato. È sbagliato perché si arriva a metà mattinata, comunque a fine, se non c'è neanche il tempo di fare uno spuntino, si arriva a fine, diciamo, mattinata, veramente con quello che si chiama buco nello stomaco, che in realtà c'è proprio un vero e proprio processo, diciamo, metabolico, che non va bene. Cioè, avviene, ovviamente, il cortisolo, che è l'ormone dello stress. Andiamo in ipoglicemia, il cortisolo va a fare gluconeogenesi, si dice, cioè la sintesi di glucoso dai nostri muscoli. Quindi, diciamo, ecco, va a ridurre la nostra massa magra e quindi non è un bene per noi, va bene, questo discorso. Aumenta l'insulina, insomma, avviene, si crea tutto un circolo vizioso da un punto di vista metabolico che non ci predispone veramente male, addirittura ci predispone ad ingrassare e ci fa ammalare anche, quindi, voglio dire, a lungo andare. Quindi la colazione è da mantenere sempre. La prima colazione, primissima colazione, poi anche uno spuntino a metà mattinata? A metà mattinata, sì, sì, proprio per far sì che dalla prima mattina fino, diciamo, ormai lavorando, moltissimi facciamo sempre, pranziamo tardissimo, ma anche a volte anche alle due. Sì. Quindi l'ideale è sempre fare un piccolino, un piccolo spuntino, diciamo, a metà mattinata, che possa essere frutta, che sia un pugnetto di frutta secca a guscio, tipo mandorle, nocciole, pistacchi, ecco, un piccolo dietro. Alla fine del nostro incontro daremo un breve esempio di dieta alimentare per dimagrire, o comunque per contenere i chili in eccesso. Dunque, un altro errore che si commette spesso è quello di considerare i carboidrati come il male assoluto, e quindi si tende ad eliminarli oppure a ridurli drasticamente. Tu cosa ne pensi? Allora, sicuramente il carboidrato è praticamente la nostra fonte primaria di energia. Il nostro corpo praticamente utilizza i carboidrati, quindi è sbagliato eliminarli. Ci possono essere delle diete fatte per breve periodo, ma vanno fatte sempre sotto controllo, in cui magari vengono un attimino ridotti. Però questo deve essere fatto sempre, non ci deve essere il fai da te. Ma eliminarli poi a lungo andare porta invece delle problematiche, perché per esempio eliminare i carboidrati tende a rallentare la tiroide, quindi a lungo andare. Quindi potremmo avere altre patologie come l'altro? Possiamo avere altre patologie. L'ideale invece è cercare di avere uno stile di vita quanto più possibile sano ed equilibrato, acquisire un metodo che poi appunto viene utilizzato diciamo un po' allungo tempo. Anche perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la FAO raccomandano appunto di ingerire tra il 50% e il 60% di carboidrati al giorno, quindi... Naturalmente, poi dipende, allora diciamo che la percentuale, siamo sempre lì, il piano alimentare va personalizzato, dipende dal soggetto che abbiamo di fronte. E quindi se c'è una qualche patologia, che tipo di esigenze ha, che tipo anche di dispendio calorico ha. Quindi dipende anche la valutazione del piano alimentare, quindi delle calorie, e quindi della composizione anche dei macronutrienti, carboidrati, proteine e grassi, dipende da quello che fa il soggetto. Parlando di carboidrati in generale, sappiamo che esistono i carboidrati semplici e i carboidrati complessi. Appunto queste due organizzazioni mondiali raccomandano circa il 10% di carboidrati semplici presenti nella dieta. Nella dieta, si vanno limitati. Tu intanto vuoi spiegarci... Cosa sono? Ecco, cosa sono? Allora, da un punto di vista, diciamo, chimico, allora diciamo che lo zucchero è un carboidrati, cioè uno zucchero semplice, no? Allora, i molecoli di saccaridi, il glucosio, il fruttosio, sono zuccheri semplici, il saccarosio, è solo lo zucchero, insomma. I carboidrati complessi sono invece quelli a lunga catena, chiamiamoli, va bene? Cioè più molecole di glucosio legate ai polisaccaridi, però in realtà da un punto di vista nutrizionale in realtà la differenza tra semplici e complessi sta un po' nella raffinazione, cioè quella che è la farina 00 viene dall'organismo, cioè noi la consideriamo uno zucchero semplice, cioè il nostro organismo la considera uno zucchero e la processa come uno zucchero, da quindi un aumento del picco di insulina e quindi della glicemia molto più velocemente che è un carboidrato complesso che sarebbe la roba meno raffinata, cioè le farine meno raffinate, la farina zero, la farina di grano duro. Di grano duro già va un po' meglio e poi quella integrale chiaramente, cioè le fibre chiaramente comportano... A proposito di farine, ad esempio, in questo periodo, ma già da diverso tempo in effetti, vanno molto di moda le farine alternative, quelle alternative alla farina di grano duro. Sì. Ce ne sono tante, anzi alcune sono state già smascherate, come la farina di Camus che non esiste, perché... Il Camut, forse, stiamo dicendo. No, allora, in realtà il Camut è un farro, va bene, è soltanto un marchio registrato. Un marchio registrato, ecco, è un marchio registrato. Allora, diciamo che le farine alternative sono utili, perché uno dei principi fondamentali della sua alimentazione è la varietà. Perfetto. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che variare... Il farro, noi lo mangiavamo, insomma, ai nostri nonni, va bene, quindi voglio dire, ed è un ottimo cereale da un punto di vista nutrizionale, come composizione di minerali, di micronutrienti, ed è anche molto saziante, quindi va molto bene nelle diete, per esempio, il farro, va bene, proprio perché sazia molto. Vabbè, poi ci sono le farine, va bene, anche quelle senza glutine, ad esempio, e che vengono utilizzate a scopo terapeutico, in questo caso, perché chiaramente la celiachia purtroppo è in grande aumento. Quindi voglio dire, non demonizziamo, le vanno utilizzate, però purtroppo c'è la moda. Altre farine cosa potremmo consigliare, oltre a quella di farro, oppure... Allora, la farina di farro, la di granosaraceno... Quella farina senza glutine deve essere utilizzata solo da chi effettivamente... Allora, viene utilizzata dai celiaci, naturalmente, oppure viene utilizzata a scopo terapeutico, per alcuni soggetti con patologie particolari, qualora si debba fare un'esclusione temporanea del glutine, che viene fatta proprio a scopo terapeutico, perché il glutine è una proteina che può diventare immunostressogena, diciamo, quindi, diciamo, si fa proprio nelle malattie infiammatorie su base autoimbune, insomma, ci sono degli utilizzi particolari, ma non è un fai-da-te, assolutamente non è un fai-da-te. Diciamo, non è un fai-da-te, anche perché molti utilizzano la farina senza glutine, oggi, per, così, adottare un regime alimentare più sano, però, retta... È scorretto, cioè, nel senso, eliminare il glutine totalmente. No, realmente, appunto, la necessità e il bisogno di mangiare senza glutine, ecco, adottare una farina senza glutine è perfettamente inutile. Sì, è inutile nel senso che molto spesso, poi, allora, proprio perché con il fai-da-te ci si rivolge ai prodotti industriali, dove il glutine è stato eliminato, allora, quei prodotti, insomma, alla fine, insomma, dal punto di vista nutrizionale, sono veramente pessimi. Allora, il celiaco, che deve necessariamente mangiare senza glutine, magari ci ricorre, proprio perché non è così semplice, talvolta, mangiare senza glutine, però, voglio dire, il fai-da-te, ecco, quello che non va bene è il fai-da-te, ed eliminare senza motivo un qualcosa. Cioè, ci deve essere tutto nella buona alimentazione. Un qualcosa che il nostro organismo è abituato a utilizzare da sempre, tra l'altro. Certo, c'è solo un problema, che purtroppo ci sono farine e farine anche con il glutine, questo ci tengo a sottolinearlo, perché purtroppo arrivano dei grani non proprio di buona qualità, quindi, allora, io quello che consiglio è di mangiare locale, di mangiare, insomma, prodotti siciliani, roba italiana, quindi grano italiano, perché da noi, brava, perché da noi comunque ci sono, c'è una legislazione che ancora ci protegge, e quindi garantisce il prodotto. Va bene, questo è importante. Assolutamente. Allora, altre farine alternative, abbiamo detto, oltre a quella del farro. Eh beh, l'avena, ci sono tante farine alternative. Le farine antiche, i grani antichi. I grani antichi, assolutamente, c'è una riscoperta, da un punto di vista nutrizionale, sono veramente validi. È un glutine buono, quello è un glutine buono, che non va a stressare l'intestino, sicuramente, e quindi sì, perché no. Speriamo che costino sempre, diciamo, di meno, perché purtroppo talvolta la proposta, diciamo, cioè non è a portata di tutte le tasche, spesso, ecco, quindi sarebbe bello, insomma, che... Sì, bisognava anche sapere scegliere. Ecco. Poi magari ci darai qualche consiglio su dove andare ad acquistare. Allora, dobbiamo diventare un po' al supermercato un attivino dei detective. Scusare l'etichetta. Allora, l'etichetta è la carta d'identità del prodotto, per cui è importante proprio saperla leggere. È un modo, intanto, quando è troppo lunga, di fidate. E invece se fossimo al mercato e non sapremmo dove leggere, perché non ci sono etichette, cosa dobbiamo chiedere? Allora, al mercato, diciamo, fondamentalmente frutta e verdura stiamo parlando, no? Sempre, magari c'è qualcuno che vende anche le farine. Allora, normalmente le etichette ci sono, però, nelle confezioni. Ecco, quindi qualcosa, insomma, c'è una buona produzione. Se c'è dal farro, sai, nei sacchi. Sì, sì, vabbè, sarà di produzione locale, credo. Sì, sì, ma credo che fondamentalmente sia di produzione locale. Di produzione locale. Va bene, quindi possiamo... Cioè, abbiamo una buona produzione qui nel Ragusano, soprattutto, per esempio, abbiamo una bella produzione. Chiaramonte Gulfi, Modica, quindi, insomma, si stanno ricominciando. Da questo punto di vista. Questi sono i nostri grani che provengono dalla Sicilia, insomma, in qualche modo. Dovrebbero. Se invece vogliamo parlare della frutta e della verdura, ecco, cosa possiamo dire? Frutta e verdura, intanto di stagione, di stagione, assolutamente. Allora, un altro principio della sana alimentazione è la stagionalità, assolutamente. Perché è chiaro che è vero che possono utilizzare anche lì diserbanti, sostanze chimiche. Però è molto meno probabile che nella frutta e nella verdura fuori stagione, chiaramente. Va bene, quindi... Durante questa stagione, ad esempio? Allora, durante questa stagione abbiamo le arance. Ricordiamolo, non lo sappiamo, ma lo ricordiamo. Allora, cosa troviamo, allora, come frutta? Le arance, tantissime. Poi poi in Sicilia, insomma, voglio dire. Le mele, troviamo. Le mele. Le pere. Non c'è molto, eh? No, in Sicilia, di nostro. Poi, vabbè, si trovano sempre le banane e i kiwi, ma non sono nostri. Quindi, diciamo, io dico, non sono... Allora, evitiamo di esagerare con la frutta che viene da lontano. Per quanto riguarda la frutta. Invece, per quanto riguarda la verdura... Eh, vabbè, fanno i broccoli, diciamo, tutte le crucifere, diciamo. Broccoli, cime di rapa, cavolfiori, carciofi, che però ho visto già cominciare ad ottobre. Cioè, cominciano sempre prima, purtroppo, va bene? Una stagione dura circa... Oltre alla durata ufficiale, ma più o meno, insomma, tre, quattro mesi. Poi, vabbè, i finocchi abbiamo di stagione, che sono un ottimo... Cioè, servono proprio veramente a farci passare la fame. Le arance da noi le troviamo anche a maggio, eh. Però, diciamo che, insomma, ormai è l'ultimo ciclo della produzione. Poi, al di là di maggio, non possiamo più acquistarle, giusto? Ma sì. Forse da noi ci sono... E poi, occhio a quando le scegliamo, se sono lucide... Di verdura che hanno un ciclo produttivo un po' più lungo rispetto ad altre regioni. Sì, da noi sì, perché comunque il clima lo permette, fondamentalmente. Ecco, per questo, sì. Occhio anche all'aspetto. Allora, quelle più brutte, molto spesso, cioè quelle che sembrano bruttine, un po' così, in realtà forse sono quelle da scegliere. Brava, infatti. Perché tutte queste, invece, tutte bellissime, che hanno queste forme, sembrano fatte proprio disegnate, in realtà poi sono senza sapore. Quelle, infatti, magari sono anche biologiche, quelle un po' più bruttarelle, comunque hanno un aspetto. Perché tu sei una bionutrizionista, ricordiamolo. Sì, sì. Sì, 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 ci tengo, ci tengo. Qualche consiglio per combattere uno dei inestetismi, ma anche uno dei fastidi più conosciuti, quale il grasso addominale oppure il gonfiore, appunto, addominale. Sono delle cose diverse, naturalmente. Il gonfiore addominale, ecco, il gonfiore addominale può essere dovuto proprio a del meteorismo, insomma, proprio a dell'aria che non riusciamo ad espellere, del legato, a dei disturbi, delle patologie, diciamo, dell'intestino, del colon, per esempio, va bene? E quindi quello, chiaramente, ci sono degli alimenti che possono creare queste problematiche, per esempio le crucifere, per esempio i carciofi. Quindi tutto dipende, poi, là va fatto una corretta, cioè dal racconto che viene fatto, diciamo, una corretta valutazione, una corretta valutazione, una valutazione per poter dare delle indicazioni alimentari. E si capisce cosa suggerire al paziente. Invece il grasso viscerale, ahimè, è una problematica del mondo moderno, perché? Perché è legato a una dieta ricca di zuccheri semplici, troppi zuccheri nascosti, sin dalla più tenera età, va bene, ci sono proprio la voce, per esempio, nell'etichetta glucosofruttosio, ecco, lo sciroppo di glucosofruttosio, lo sciroppo di maese, sono dei dolcificanti, cioè sono proprio dei dolci che si trovano nei biscotti, si trovano nei prodotti, diciamo, industriali, praticamente, nelle brioscine, insomma, e poi, vabbè, è una dieta ricca di grassi. Poi qualche altro prodotto dove possiamo trovare queste sostanze in maniera zuccherata? Ma guarda, allora, sono tutti i dolci fondamentalmente di tipo industriale, ahimè, diciamo, ecco, i biscotti, cioè se andiamo a vedere, è difficile non trovare lo sciroppo di glucosofruttosio, ahimè, che è proprio veramente, peggio dello zucchero proprio del bianco che mettiamo nel caffè, insomma, chi lo mette, che io prendo l'acqua. Ecco, quindi controllare il grasso addominale, che appunto non è già diverso. Sì, perché allora il grasso addominale ci predispone, allora è un indice di rischio cardiovascolare importante, quindi quello va veramente controllato, cioè fondamentale, va bene? Nelle donne, allora, le donne diciamo che questo grasso addominale si sviluppa un po' più, purtroppo dopo la menopausa, perché cambia l'assetto ormonale. Nell'uomo invece, diciamo che dopo i 40 anni, ecco, soprattutto nel sedentario, ecco, noi cambiamo, cioè siamo più avvantaggiate prima, insomma, perché durante, insomma, le varie fasi dell'epoca, dopo con la menopausa invece, diciamo, perdiamo tutto il vantaggio. Il nostro corpo cambia, sì, perdiamo il vantaggio. E poi magari oltre alla nutrizione è sempre utile consigliare l'attività sportiva. Assolutamente sì, una vita attiva, assolutamente sì, 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 un buon... Anche la quantità del cibo ingerito a volte può creare confusione. Ad esempio, vogliamo rimetterci in forma, ma appunto la colazione abbiamo detto, no, non bisogna saltarla, ma si può saltare un pasto al giorno, uno, due pasti, tu cosa... quanto cibo puoi ingerire durante ogni pasto? Fare pasti brevi ma continui oppure fare pochi pasti e abbondanti? Dipende, sempre anche lì, perché dipende da quello che si fa, cioè da che vita si conduce. Chiaramente saltare il pasto, io dico, cioè, non è proprio una buona regola, o quantomeno si parla tanto di digiuno ormai. Ho visto per esempio, andando su Google, che c'è proprio dall'anno nuovo, sono cominciata a fioccare, digiuno, 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 la dieta del digiuno. Ok, no, non è così corretto, perché dipende sempre il soggetto in che stato è. Se ha, per esempio, una composizione corporea per cui la sua massa magra, i suoi muscoli sono già bassi, se fa il digiuno, questo soggetto finisce che depapora tutta la sua massa magra e quindi fa un danno al suo metabolismo, assolutamente. Se ne va in malnutrizione, chiaramente, va bene? Quindi, tutto dipende da chi abbiamo di fronte. Sicuramente non ingolfare i pasti, cioè fare dei pasti più frequenti durante il corso della giornata può essere utile, perché, soprattutto se si fa una vita attiva, riuscire a fare, tipo, primo, secondo, condorno, dolce, caffè, ammazza caffè, insomma, penso che poi alla fine ci andiamo a coricare. Ok, la sera ha maggior ragione, ecco. Ogni momento della giornata. Quindi potremmo fare più pasti, ma, ecco, meno abbondanti. Allora, soprattutto se si fa una vita attiva, che bisogna, cioè, se a pranzo dobbiamo lavorare, allora, la cosa più, diciamo, più utile da fare è fare un pasto unico, diciamo, per esempio, con un'insalatona, anche di cereali, per esempio, con il riso, o un'insalata di pasta, cioè, diciamo, fare un piatto unico completo, ecco, dove c'è anche degli ortaggi. Un po' più leggero rispetto a quello serale. No, più leggero, diverso. C'è anche questa curiosità che non si capisce bene, anche c'è chi dice, no, meglio mangiare più abbondante a pranzo, più leggero a cena, perché poi dormi, invece, secondo te? Ma in realtà il pranzo deve essere complementare alla cena o viceversa? Cioè, quello che non abbiamo mangiato a pranzo mangiamo la cena, in termini di proteine, carboidrati, cioè, al pranzo può essere anche più semplice, dipende dove ci troviamo, se dobbiamo mangiare fuori, anche la fettina di carne o un pesciolino con l'insalata, per esempio, e allora la sera ci possiamo rimettere anche un piatto, diciamo, di carboidrati. Non è, cioè, sfadiamo anche quest'altro mito, no, che per forza la sera bisogna mangiare proteine? Assolutamente no. Poi dipende sempre, ecco, da chi abbiamo di fronte. La complementarietà è importante, non è regola importante. Quindi si può fare a volte a pranzo, a carboidrati, a cena, proteine, però anche viceversa, alternare. Naturalmente. Naturalmente, chiaramente, se mi faccio la sera però una carbonara, penso che mi resta, quindi se scegliamo il carboidrato come piatto serale, magari è una pasta con le verdure. Può anche darsi che è una carbonara e invece risulti leggera. Oddio, potrebbe inficiare il riposo notturno, eccomi. Ecco, dipende quanto tempo c'è tra la cena e il momento in cui andiamo a letto, perché almeno due o tre ore dovrebbero passare. Due o tre ore, ok. Ecco, va bene? Ecco, dipende. Poi abbiamo detto che dobbiamo parlare di dieta alimentare e di rimettersi in forma, quindi la carbonara per adesso... Lasciavola perdere, va bene. Integratori, integratori oppure sostitutivi dei pasti. Si parla appunto di integratori di tutti i tipi, oppure sostitutivi anche dei preparati non provenienti da alimenti veri e propri, però appunto sciroppi, varie soluzioni. Tu cosa ne pensi? Allora, cosa ne penso? Gli integratori non sono contro, nel senso proprio così a priori. Dipende sempre da chi abbiamo di fronte, sempre lì è il discorso. Perché se il soggetto è un soggetto sano che non ha nessuna carenza, non è necessario utilizzare assolutamente nessun tipo di integrazione. Se invece, per esempio, che so, il soggetto ha delle problematiche di malassorbimento a livello intestinale, no? Perché ha, appunto, per esempio, delle malattie infiammatorie dell'intestinale, ci sono proprio degli integratori specifici. Che si possono associare al pasto. Dalle vitamine ai probiotici, cioè praticamente la flora... Per esempio, mi viene in mente il fucus, il... Beh, il fucus è un'alga che, vabbè, allora, non va utilizzata con troppa facilità, nel senso che se il soggetto, per esempio, è un ipertiroideo, andiamo a fare un danno pazzesco. Quindi mai il fai da te, ecco, con gli integratori mai il fai da te. Vabbè? Assolutamente. Perché purtroppo... Il tè verde, oppure... Il tè verde, anche lì, dipende dal soggetto che abbiamo di fronte. Un soggetto che ha un assi ipotalamo, i vovisi surrene, molto accelerato, cioè nel senso un po' nervosetto, e comincia a bere tè, non è proprio... Se invece, vabbè, il soggetto è un attimino ipo, allora magari lo svegliamo un attimo. Cioè dipende sempre, va bene? Cioè, anche lì è importante... Il problema è questo, che siccome sono di origine naturale, si pensa che siano... Sì, è un po' acqua fresca. Ecco, bene, cioè che siano senza effetti collaterali. Non è così. Questo spesso c'è il fai da te. Ecco, sono dei principi attivi. Perché essendo sostanze naturali, fondamentalmente, perché poi non... Assolutamente naturali, si tende a sottovalutarle. Si tende a fare pasticci. Spesso, proprio queste sostanze naturali sono alla base della medicina. Sì, sì, bravissime. Infatti, perché i primi farmaci erano su base naturale, naturalmente, non erano... Quindi consigliamo un uso sempre sotto controllo, personalizzato, sotto controllo. Consigliato dal medico, dal farmacista, dal medico. Insomma, anch'io posso... Ancora più da un nutrizionista. Sì, sì, anche se quando è necessario. Forse è meglio anche avere degli esami a portata di mano prima di iniziare a usare degli integratori. Certo. Oppure dei sostitutivi dei pasti, giusto? Anche i sostitutivi... Allora, i sostitutivi dei pasti... Che adesso vanno tanto di moda. Ecco, vanno tanto di moda. Il problema è questo. Che, intanto, è importante sapere veramente cosa c'è dentro. Spesso e volentieri non si sa veramente come sono fatti. Però, qualora sogliano veramente, perché non voglio mettermi lì ora, inimicarmi tutte le aziende, non è così. La dieta fatta in questa maniera. Allora, può durare per breve tempo. Perché un altro... Cioè, un obiettivo del biologo nutrizionista e quindi anche del soggetto che viene da noi, qual è? Acquisire un metodo. Cioè, allora, con il pasto sostitutivo non si acquisisce nessun metodo, uno stile di vita nuovo. Cioè, il cambiamento dello stile di vita è importante. Perché se no, non si è fatto niente. Non è il piano alimentare in sé che si fa per pochissimo tempo. Cioè, faccio la dieta, dimagrisco, 4-5 kg. E poi, sì, ok, gli do il mantenimento. Cioè, è importante che venga acquisito proprio un meccanismo. Dice, io devo impostare la mia giornata alimentare in questa maniera. E poi, però, ci sono le giornate, con le eccezioni, come è giusto che sia. Quindi sarebbe utile in alcuni casi sempre da valutare, magari iniziare per un periodo breve volendo una dieta con dei sostitutivi, ma abbandonarmi il prima possibile, perché poi bisogna scelgare un metodo. Qualora si scelgano, comunque non bisogna eccedere nel consumo di lunga durata. Qualora si scelgano. Io non posso chiaramente, vabbè, personalmente non li utilizzo, però voglio dire, non è... Se qualcuno volesse scegliere questo tipo di dieta, comunque, ecco, deve capire che... Non può durare in eterno. Deve poi iniziare invece a controllare il modo di consumare il cibo durante la giornata da sé, ecco, senza affidarsi ad un pasto sostitutivo che... Anche perché, consentimi, evita un po' la scelta, evita un po' la scelta a colui che si deve nutrire, no? Cerca di... Sì, allora, il discorso è questo, il rapporto col cibo è anche un rapporto, cioè, di emozioni. Assolutamente. Ok? Ecco, si perde tutto questo discorso. Cioè, lo shaker, beviamo questo pappone, quindi si perde proprio... Allora, alla base della piramide alimentare c'è la convivialità, Cioè, va bene, ormai la nuova piramide alimentare, quindi cibo e emozioni, cibo e piacere, cibo e socialità. Cioè, in questa maniera... Si dice un pochino il piacere si perde, e siccome fa parte... Non è recuperarlo, poi. Assolutamente sì, perché fa parte del percorso, anche di dimagrire... Cioè, quando si fa un percorso di dimagrimento, per cercare di recuperare salute e benessere, perché poi è quello, poi, alla fine. Quello, ovviamente. Ecco, deve essere un piacere, cioè, questa... La componente, diciamo, perché voglio dire, non è che viene a diventare che sono tutti fatti di cose bollite e cose tristi, eh, mettiamo, ecco... E quindi, cioè, deve essere anche quello, va bene, recuperare... La componente emotiva non deve... Non si deve perdere. Perdere. Ecco, questa è importante. Non si deve perdere, non deve essere demolita. Assolutamente. Bisogna mantenerla, magari ricostruirla, riequilibrarla, nei casi in cui c'è bisogno di riequilibrarla, perché a volte è troppo intensa. Ah, vabbè, certamente. Quindi bisogna un pochino stenerla sotto controllo, però non eliminarla, ovviamente. Eliminarla, no. Vogliamo dare qualche consiglio per una dieta a coloro che hanno dei problemi di salute particolari, un po' più gravi, ad esempio. Vabbè, mi viene in mente il colon irritabile, ma, insomma, quello è abbastanza diffuso, però c'è anche la stipsi. I cardiovascolari, coloro che hanno problemi cardiovascolari, oppure problemi di anemia. Eh, allora, vabbè, sono tutte diverse. Allora, alla base c'è sempre un'alimentazione sana, diciamo, va bene. Però, appunto, ci sono delle differenze. Per esempio, il colon irritabile, proprio perché l'hai citato. Allora, tutto dipende. Lì, proprio veramente, è un mondo. Perché non esiste un solo colon irritabile, ma tanti colon irritabili. Con stipsi, con diarrea, con alvo alternato, con fermentazione, con putrefazione. Quindi là, praticamente, vabbè. L'unica cosa è che il messaggio non vanno eliminate le fibre, perché purtroppo c'è questa tendenza. Vanno utilizzate le fibre giuste a seconda della problematica. Ok, ok. Questo è importante. Che purtroppo, è difficile. Proprio per questo, diciamo, diventa un po' complicato. Però c'è la tendenza, proprio, dice, non mangio più fibre. No, invece no. Perché il colon irritabile è dovuto anche ad una disbiosi, al fatto che comunque il nostro, cioè, la flora batterica, è in disordine. E quindi, chiaramente, insomma, se noi andiamo a eliminare le fibre che è il nutrimento della flora batterica, non combiniamo niente. Va bene? Quindi ve notate quelle giuste. Anemia, mi pare che... Anemia, sì. Anemia, per esempio, tanto limone ovunque. Va bene? Perché il limone, la vitamina C, ci permette l'assorbimento del ferro, quindi sia sulle proteine di origine animale, cioè sulla carne, sul pesce, sia sulle verdure, sul ferro delle verdure. Quindi, per esempio, il limone. Oppure evitare l'associazione del formaggio, degli alimenti ricchi di calcio con gli alimenti ricchi di ferro, perché viene inibita l'assorbimento del ferro. Per esempio, sono queste alcune delle... Va bene? Un paio di chicche. Cardiovascolare, va bene, chiaramente, cercare di... Deve essere una dieta dove cerchiamo di stare attenti agli zuccheri e anche ai grassi, ai grassi saturi, grassi di origine animale, soprattutto. Va bene? Gli zuccheri sono... Cioè, molti pensano che nel caso del cardiovascolare, per esempio, con il colesterolo alto, bisogna eliminare totalmente i grassi. No, non è così. Vanno dati i grassi buoni e poi bisogna evitare di avere picchi di insulina, cioè dare zuccheri semplici che portano a picchi di insulina, perché l'insulina stimola l'enzima che produce all'interno dell'osso organismo il colesterolo. va bene? Quindi, dobbiamo... Ecco, va modulata... Perfetto. si crea questo problema è il fatto che non si beve. Ah, ecco. Io scopro nell'anamnesi che praticamente non bevano. Allora, bere tanta acqua. Già, ecco, già a volte si risolvono queste stipsi con tanta acqua. Vabbè, con... Vabbè, con... Vabbè, con... Bevendo l'acqua, insomma, ecco, cercando di bere. Per esempio, vabbè, questo vuol dire... Certo. E il diabete, ad esempio, è un'altra... Il diabete, chiaramente, va fatto una dieta a basso indice glicemico, quindi cosa vuol dire con roba integrale, fondamentalmente, farine integrali. Quindi, pasti, devono essere pasti a basso indice glicemico, cioè, tendenzialmente, vengono fatti dei pasti completi dove ci sono proteine, grassi e carboidrati. Il carboidrato deve essere un carboidrato integrale, le proteine e grassi servono ad abbassare, cioè a modulare l'assorbimento dello zucchero, va bene, all'interno dell'organismo e quindi a fare un pasto a basso indice glicemico. Perfetto. Spero di essere. Ecco, sì, sei stata chiarissima. No, spero. Assolutamente. Naturalmente, permettendo il fatto che per una dieta corretta occorre parlare con un dottore specialista, appunto, con una nutrizionista, anzi, con una bionutrizionista, quindi ancora meglio, comunque, occorre la personalizzazione. Però, se volessimo dare un consiglio generico, fare un esempio di dieta, una breve dieta, così, che può andare bene per tutti, adulti, meno adulti, uomini, donne, ecco, dei consigli generici. Generici, sono alimentazione. una dieta sana ed equilibrata. Allora, generici, così possiamo dire, intanto non saltare mai la colazione, va bene? Allora, intanto ascoltiamo il nostro corpo, perché se lo ascoltiamo, lui ci dice cosa vuole, va bene? Cosa serve? Comunque, va bene, la colazione, naturalmente. Un esempio di colazione, per esempio, cosa potrebbe essere delle fette integrali con la marmellata e un pugnetto di frutta secca a guscio, mi viene in mente questa, va bene? Perché facciamo, per chi per esempio non è abituato, perché voglio dire, la marmellata è di quella che contiene solo gli zuccheri della frutta, delle fette integrali, il pugnetto di frutta secca a guscio che ci dà anche proteine e grassi buoni, ecco per esempio. Per chi non ama la marmellata, ad esempio? Allora, per chi non ama la marmellata, esistono delle buone creme di cacao e nocciola che non sono, non posso fare nomi commerciali, però esistono, se andiamo a cercare, quelle che contengono come primo ingrediente la nocciola, esistono, va bene? Quindi ci sono delle cose buone, oppure della frutta a colazione, potrebbe essere un'idea, accompagnata magari sempre da una fetta biscottata, qualcosa di secco, perché la frutta a stomaco vuoto potrebbe dare un po' di reflusso se per chi ne soffre, va bene? E poi sempre il famoso pugnetto, di frutta secca guscio, chiaramente sto parlando in modo generico, se ci sono delle problematiche, non è detto che la frutta secca guscio si possa dare, va bene? Oppure anche una colazione salata, che posso dire, del buon pane di grano duro integrale con un crudo, con una fettina di crudo, del crudo di buona qualità, perché è sempre... Tra i salumi tu consigli il crudo? Allora, consiglio il crudo per quale motivo? Perché parlando sempre della buona qualità, se va sempre guardata l'etichetta, è un salume che non contiene nitride e nitrati, cioè nel senso che nell'etichetta c'è solo suile e sale, ecco, va bene? Quindi per questo motivo consiglio... Quindi il crudo prima di tutto? in questo senso, sì, sì, per questo motivo, chiaramente sempre parlando di un soggetto sano, va bene? Di un soggetto sano, ma poi, va bene, la colazione... ma insomma, per esempio, della ricotta, della ricotta di capra, per esempio, io sono... perché i latticini di capra sono di ottima qualità rispetto, cioè, diciamo, dovrei fare tutta una disquisizione sulla capra, però non è il caso, per esempio, della buona ricotta, con la loro pane, ricotta e miele, ad esempio, potrebbe essere un'altra idea di colazione, per esempio, sì, 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 dei cereali, dei cereali, però magari, ecco, quelli senza zuccheri, diciamo, zunti, più grezzi, per esempio, dei fiocchi d'avena, ad esempio, in uno yogurt bianco naturale, per esempio, bene con dell'uvetta, che è molto, che è un alimento alcalinizzante, per esempio, o dei fichi secchi, per esempio, la mattina, ecco, delle prugne secche, accompagnate allo yogurt, accompagnate all'accede, appunto, a dei fiocchi d'avena, per esempio, ecco, questa è la colazione. Anche una fetta di torta fatta in casa? Anche una fetta di ciambello, di torta fatta in casa, sì, sicuramente, può essere... Allora, diciamo che, anche la colazione, non deve essere sempre la stessa, possiamo, insomma, e poi possiamo permetterci, deve essere il 20% dell'introito giornaliero, quindi possiamo, insomma, possiamo osare a colazione, assolutamente, e poi, vabbè, lo spuntino di metà mattinata con la frutta, col pugnetto di frutta secca a buscio, oppure, un paio di fette biscottate, voglio dire, va bene, dipende, dipende come... Sì, sì, sì. Poi, al pranzo? Allora, pranzo, quello che dicevo, è importante seguire, la regola della complementarietà, cioè, allora, se al pranzo mangio il primo, a cena mangio il secondo, e viceversa, accompagnando sempre, sia il pranzo che la cena, con un contorno di verdure, cotte o crude, va bene? è importante associare sempre al pasto, un buon contorno di verdure, perché le fibre sono fondamentali, per tanti motivi, perché riducono l'assorbimento di grassi e zuccheri, perché danno senso di sazietà, perché nutrono la flora batterica, che è fondamentale per la nostra salute, abbiamo noi il microbiota intestinale, ormai si sa, insomma, che se lui è in salute, stiamo ben noi. Quindi contorni comunque con verdure di stagione, abbiamo detto, assolutamente di stagione, ricordiamolo, sì, 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 ma anche appunto, allora, un primo, un contorno, per finire, ricotta, no, anzi, il franzo, no, no, con delle gocce di cioccolato, allora, diciamo che il dolce ce lo permettiamo a fine settimana, a fine settimana, va bene, ce lo permettiamo a fine settimana, oppure, se abbiamo voglia di un dolce, utilizziamolo come spuntino, ecco, sostituiamolo allo spuntino, dico questo, insomma, non appesantiamo il pasto, soprattutto appunto, durante la settimana, se noi, appunto, l'abitudine di finire il pasto con il dolcino, ecco, però possiamo permetterci un po' di cioccolato fondente, che posso dire, il fine settimana, però, oppure appunto, durante lo spuntino pomeridiano, potrebbe essere un'idea, qualcosa di dolce, ecco, sì, diciamo, potrebbe, ecco, se abbiamo voglia di dolce, cioccolato fondente, abbiamo detto, cioccolato fondente, con un cacao superiore al 70%, quantomeno, va bene, non dico, ecco, ancora di più, però 70% potrebbe essere una bella idea, per esempio. Ok, perfetto, allora, per rimetterci in forma, ci sono anche alcune riviste, alcuni medici, insomma, che danno dei psicoconsigli, ad esempio, qualcuno, potremmo darlo anche noi, cosa potremmo consigliare, per evitare le tentazioni? Evitare le tentazioni, eh, urinarie, allora, evitare le tentazioni, non è semplice, assolutamente, però l'attività fisica, secondo me, assolutamente, perché ci permette, sì, assolutamente, quando possiamo, non cerchiamo, che non deve essere necessariamente, se non abbiamo tempo, di tipo organizzato, ma possiamo andarci in pista ciclabile, ci possiamo fare lunghe passeggiate, questa sicuramente, e fare un po', un po' di meditazione, qualcosa, insomma, aiutarsi, quindi trovare delle attività, oppure delle attività che fanno, ecco, sì, che ci distraggono, anche gli hobby, il fai da te, il fai da te, sì, 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 assolutamente, eh sì, sì, va bene, insomma, e poi abbiamo scherzato un pochino, però abbiamo detto più o meno, quali sono i principi da considerare, nel caso di una dieta, alimentare sana ed equilibrata, e non dimentichiamolo, l'importante è personalizzare ciascun trattamento, ecco, avere una, non si può generalizzare, seguire un regime personalizzato, soprattutto rivolgersi ad una professionista, e quindi ti ringraziamo, grazie a voi, per quello che ci hai appena detto, per i consigli che ci hai dato, ci vediamo alla prossima, grazie, grazie mille, buona serata. Grazie a tutti, 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 Grazie.